welcome back gargiulli e benvenuti ad a new airsoft video oggi vi racconterò una breve giocata fatta tempo fa esattamente a febbraio del 2019 con il mio club softair pavia trovate il link in descrizione nel campo urbano e boschivo di villanterio provincia di pavia degli italian shooter clan come potete vedere il campo di gioco è una vecchia porcillaia che comprende due grossi capannoni a t e uno più piccolo al centro in questa fase della giocata dobbiamo difendere la zona urbana dall'assalto degli attaccanti qualcuno con me perché stanno facendo il giro di qua dobbiamo andare in quel capannone vieni con me dai vai per sei solo ok vi ricordo che sia attaccanti che difensori hanno una sola vita non c'è medico stanno facendo il giro occhio in questa situazione stiamo cercando di evitare che gli attaccanti ci agilino dal lato sud del complesso dei capannoni per evitare di schiacciarci sia dal lato nord che dal lato sud si l'hai visto nell'angolino non puoi sparare dalla finestra mi spazio e lo prendiamo copravi di qua copravi di qua tranqui vai vai di là dove c'è la roba eh vai di là come avete visto gli attaccanti sono riusciti ad aggirarci quindi io e il mio compagno zero rimaniamo in posizione per difendere il lato sud del campo la prima parte della giocata si è sviluppata nella zona boschiva per poi passare alla zona urbana dove siamo ora peraltro si doveva sparare in singolo come da regolamento questa entrata è cruciale per l'ingresso del nemico in quanto potrebbe entrare direttamente nella zona centrale del campo e spaccare così in due la difesa si sparano fanno il giro largo morca puttana ok l'ho visto l'ho visto dietro il rimorchio se non spari e non spari scusa ti ho preso il dito scusa 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 scorma morca puttana morca puttana morca puttana una l'ho presa di una l'ho presa di orca puttana il mio compagno zero è stato colpito e alcuni nemici sono riusciti ad aggirarci quindi provo a fare il loro stesso gioco cercando di prenderli da dietro rimanere in quella posizione ormai non serve più a nulla. Ovviamente controllo se non è rimasto nessun nemico alle mie spalle e provo a passare dal lato sud del campo. Alla prossima. La giocata consiste nel difendere la zona urbana e impedire che i nemici trovino la bomba per poi disinnescarla. Ovviamente la bomba era nascosta. Qui faccio segno ai miei compagni che sono io, quindi di non sparare. Qui invece mi ero accorto che erano i nemici e sono riusciti a sfondare dal lato nord, quindi provo a fermarli prima che trovino la bomba. Porca puttana! Oh, bravissimo! Che cazzo è stato? Non lo so, ma bravissimo! Peccato, è andato male. Ci ho provato. Vi ricordo a Gargiulli di iscrivervi al canale, attivare la campanella e di commentare qui sotto qualsiasi cosa vogliate. Passate anche su Instagram, taggatemi sulle vostre foto e storie e passate anche sul profilo del mio club Softair Pavia. È tutto in descrizione. Stay Angry, Stay Biru! Ciao! 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 Ciao!